Gli istituti Santa Paola sabato inaugureranno il nuovo anno accademico con la novità del corso di laurea magistrale a ciclo unico di restauratore di beni culturali. Ospite d'onore sarà Filippo D'Averio. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico restauratore di beni culturali degli istituti Santa Paola è realtà. Sabato si terrà l'inaugurazione del nuovo anno accademico 2018-2019 con ospite d'onore Filippo D'Averio che terrà una lectio magistralis dal titolo Dare futuro al passato. Durante l'evento, oltre alla presentazione del corso triennale di tecnico del restauro di beni culturali, sarà inaugurato il corso di laurea magistrale a ciclo unico restauratore di beni culturali. Sabato 3 novembre alle ore 10.30 ci sarà l'inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019 dalla scuola laboratorio di restauro e conservazione di beni culturali. È un evento importante per noi, aperto a tutta la cittadinanza e questo per anche inaugurare il nuovo corso di laurea che ha avuto inizio quest'anno di restauratore di beni culturali. Siamo partiti due anni fa con le richieste di autorizzazione da parte del Ministero che ci ha concesso già l'anno scorso e quindi con l'anno accademico 2018-2019 siamo partiti con la prima annualità, quindi le prime matricole, i primi dieci allievi previsti hanno potuto iniziare già le loro attività l'8 di ottobre. Abbiamo voluto fare una cosa un po' in grande e quindi Filippo D'Averio è la persona giusta, secondo noi un critico d'arte importante, e molto conosciuto per inaugurare questo anno accademico visto che è anche il primo del corso di laurea magistrale. Si tratta di un corso di laurea peculiare, nel senso che è organizzato con un ciclo unico di 15-5 anni, non è un 3 più 2, è un 5 secco, tipico di questa tipologia di curriculum. È organizzato su 28 esami per un totale di 300 crediti formativi e ciò che caratterizza questo tipo di corso in generale penso che sia soprattutto anche una grande interdisciplinarietà perché ci sono materie scientifiche, umanistiche, quindi è veramente un corso adatto anche a chi ha una profonda volontà di spaziare in diversi argomenti. Gli iscritti sono 10 quest'anno, c'è da dire che è normale che sia così, cioè questi corsi per anche la organizzazione particolare che hanno hanno sempre un numero di iscritti abbastanza basso ed è impossibile altrimenti riuscire a seguirli in maniera adeguata. I docenti provengono in generale da tutto il Nord Italia e anche Centro Italia però abbiamo un buon numero di docenti mantovani, cosa in cui crediamo fortemente perché vorremmo che si connotasse in modo anche molto mantovano questo corso di laurea.